hai mai provato il desiderio di capire qual è il tuo scopo della tua vita la missione della tua vita beh con lo studio delle vite precedenti questo è possibile chi mi conosce sono anni e anni che tratto tutto ciò che è crescita personale in modo particolare condotto più di 9.000 incontri a tu per tu guardando alla vita attuale alla genealogia e quanto questa ha portato dall'alto quelli che sono la fonte dei tuoi blocchi per poter sbloccare in ambito sentimentale lavorativo e tutto quello che può essere di importante ma ora parliamo di vite precedenti scoprire i tuoi talenti chi mi conosce sa che mi basta uno sguardo fatto in un certo modo per riuscire a vedere quello che c'è stato in una persona nel passato certo ho bisogno del mio studio del mio comprendere però ora è arrivato anche il momento delle vite passate già sono anni che le studio oggi come oggi è necessario che io cominci ad analizzare la tua vita passata le tue vite passate che ti stanno bloccando e ti assicuro che il solo guardarle il solo descrivertle indicarti il luogo esatto il paese esatto dove questa si è svolta diciamo che è fonte di sblocco ci può dire certo inoltre la tua stessa famiglia è condizionata da quella incarnazione siamo tutti collegati l'uno con l'altro quindi mi raccomando c'è un link in descrizione cliccalo così avrai informazioni in merito insomma si metti in moto qualcosa che ti comincerà a permettere di liberarti da quelli che sono i tuoi blocchi che nascono dalle vite passate è ora che ti predisponi ad una vita presente e perché no alle future incarnazioni con gioia e felicità ricordati un particolare questo vale solo per il mese di agosto 2024 l'altro calendario ha tutto un suo modo di procedere quindi non confondiamo le cose chi mi conosce sa il calendario già esiste ma questo è solo per agosto unicamente per agosto quindi i posti sono limitatissimi prenota il tuo posto e mi raccomando clicca sul link in descrizione ciao ciao